Allora signore, notizie confortanti e importanti, l'Inter, il CdA approva il bilancio, le perdite scendono a 36 milioni e Octri ricapitalizza per 47, il rosso per l'anno 2023-2024 di 50 milioni, cala di 50 milioni rispetto all'esercizio presidente, fatturato a quota 473 milioni, decisivi 48 milioni in più di ricavi. Quindi dobbiamo stare calmi ragazzi, dobbiamo stare tranquilli, ricordiamoci in che situazione ci aveva lasciato Zhang e Zhang in quella situazione ha vinto anche, è stato un presidente vincente anche se era un cin cin, però calma, stiamo calmi, dobbiamo stare calmi e tranquilli, quest'anno non ce ne frega un cazzo, basta che rimettiamo tutto a posto e poi se Octri vuole ripartiamo, capito, con acquisti, cioè capito, il segreto è che devono innamorarsi dell'Inter, capito, perché si innamorano tutti di noi, non glielo dite, avevano questi scappati di casa, si innamorano tutti di noi, quindi calma, stiamo calmi, calmi, siamo belli, siamo belli, siamo vincenti, abbiamo vinto uno scudetto, ma vi ricordate il 22 d'aprile signori? Ma secondo me voi vi siete dimenticati, la goduria estrema, meglio di una Champions, cioè una goduria che, mamma mia, ancora me la sento dentro la goduria, vederli così in casa, vincere lo scudetto in casa e festeggiare che ci hanno alzato la musica, io ancora sto godendo, cioè capito, lascia stare, basta,